In A1 in direzione Bologna ci sono 4 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per un incidente. Ci sono poi rallentamenti tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico. Segnalato inoltre un veicolo fermo tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. In A12 3 km di coda per lavori nel tratto compreso tra lo svincolo di Versilia e quello di Massa in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena ci sono scambi di carreggiata per lavori tra Monte Rigioni e Siena e tra l'alacciamento A1 Firenze in Pruneta e San Casciano Nord. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!